Gli Stati Uniti sono un paese libero e competitivo, per questo tutte le grandi tech companies sono nate qui. E' lo stesso motivo per cui il progetto di Orwell è sbocciato ed è stato sviluppato proprio qui, a New York City. Sulla scorta delle nostre esperienze abbiamo prima immaginato e poi realizzato Orwell, la piattaforma che consentirà alle aziende di digitalizzarsi, di poter ottimizzare il lavoro massimizzando i guadagni e di poter comunicare su tutti i propri canali attraverso un'unica dashboard, quindi dal sito web alle piattaforme social, solo dalla piattaforma di Orwell. E poi ai content creator, creatori di contenuti, giornalisti, fotografi, vlogger, videomaker che potranno iscriversi, aprire il proprio profilo e vendere i propri contenuti online. Comunicare e informare verità e menzogna, elementi che la velocità smodata, che la rivoluzione digitale ha imposto alle nostre vite, ha come mixato tra loro. Grazie a Orwell torneremo liberi di poter scegliere e di poter vivere finalmente da protagonisti le grandissime opportunità del nostro tempo. Grazie a Orwell torneremo liberi di poter vivere finalmente